Il Paradiso delle Signore. Anticipazioni. Tancredi in fin di vita. Lunedì, 20 novembre 2023. Marcello scopre che non è stato incluso negli affari del paradiso e che non dovrà occuparsene. Barbieri non nasconde la delusione e decide di rivolgersi direttamente a Matteo. Infatti chiede aiuto al suo fratellastro e gli domanda di cercare di ottenere più informazioni per capire che cosa possa essere successo. Vito inizia a progettare la sua nuova fabbrica, provando orgoglio all'idea che potrà realizzare il suo sogno, sia quello di Matilde e suo padre. Maria, nel frattempo, ha finito di creare il suo abito per la collezione natalizia. A Il Paradiso delle Signore c'è grande emozione in attesa di vedere questa creazione che si preannuncia davvero fantastica. Tancredi è convinto di poter risolvere l'ennesima crisi con Matilde, ma ancora ignora che lo spettro dell'incendio al mobilificio Frigerio sta tornando per travolgerlo ancora una volta. Vittorio, infatti, ottiene un dossier attraverso l'aiuto di Diletta, che dimostra che è stato proprio Tancredi a provocare l'incendio che ha distrutto la vita della famiglia di Matilde. Conti quindi decide di rivolgersi direttamente a Tancredi, mettendolo con le spalle al muro, per non essere costretto ad essere lui a rivelare a bruciapelo la verità a Matilde. Martedì, 21 novembre 2023. Maria vuole organizzare una sorpresa per il suo fidanzato dopo il periodo difficile che stanno attraversando. Le sue amiche decidono quindi di lasciare libera casa delle ragazze per permetterle di preparare al meglio ciò che ha in testa. Marcello, su suggerimento di Matteo, chiede direttamente a Conti di poter essere più coinvolto negli affari del paradiso, anche alla luce dell'incarico che gli è stato dato da Adelaide. Vittorio gli offre una scrivania tutta sua e sembra intenzionato a dare più spazio a Marcello. Sottolinea, però, che la fiducia deve essere guadagnata e che bisognerà ripartire da zero. Anche Vito chiede un favore a Matteo, mentre quest'ultimo fa sempre più fatica a contenere i sentimenti che prova verso Maria, soprattutto in sua presenza. Matteo quindi si rivolge direttamente al suo fratellastro, si sfoga con lui e confessa a Marcello di essersi ormai innamorato della Puglisi, nonostante quest'ultima sia impegnata e in procinto di sposarsi. Tancredi, dopo aver visionato il dossier, ha una conversazione molto importante con Umberto. Gli comunica tutte le sue responsabilità nell'incendio e sostiene di avere paura che la verità stia per venire a galla. Tancredi ancora non riesce a raccontare la verità a Matilde. Mercoledì, 22 novembre 2023. Tancredi parla con Vittorio e gli chiede tempo extra per poter confessare la verità a Matilde. Cerca di fargli capire quanto sia difficile per lui dire questa cosa alla moglie, soprattutto in un simile momento di crisi. Delia vuole spingere Agatha ad iscriversi ad una scuola d'arte che le permetta di migliorare ulteriormente il suo grande talento per il disegno. Delia si rivolge anche a Roberto e gli dice che è necessario che Agatha coltivi questo grande talento che potrebbe permetterle davvero di ottenere un grande successo. Vittorio decide di concedere fiducia a Marcello e, per farlo, gli permette di organizzare il lato economico di una campagna pubblicitaria del Paradiso delle Signore. Umberto però si prepara ad ostacolare lo storico rivale anche questa volta. Tancredi viene a sapere che è stata diletta a fornire il dossier a Vittorio, così la ricatta. Lei però non cede così, fuori di sé, il di Santerasmo va direttamente ad affrontare Vittorio ancora una volta. I due hanno uno scontro furioso e, mentre Tancredi si allontana in preda alla concitazione, succede l'imprevedibile e viene investito da un'auto. Vittorio è scioccato e cerca di capire se le condizioni dell'uomo siano gravi. Giovedì, 23 novembre 2023. Tancredi viene trasportato in ospedale, dopo che Vittorio ha provato a soccorrerlo. Ovviamente è necessario un ricovero e le sue condizioni sono davvero gravi. Vittorio è molto scosso per quello che è successo, visto che l'incidente è avvenuto proprio sotto i suoi occhi. Roberto cerca di convincere Agatha ad iscriversi ad una scuola per migliorare il suo talento artistico e per imparare a disegnare ancora meglio di così. La secondogenita Puglisi non sembra essere così convinta. Umberto sta quasi per soffiare l'affare che Barbieri aveva quasi concluso per la campagna pubblicitaria del Paradiso. Dal canto suo, Matteo assicura a Maria che è pronto a lasciare in qualsiasi momento l'incarico che gli ha affidato Vito. Qualora lei dovesse sentirsi in imbarazzo o se dovessero sorgere problemi di qualsiasi tipo, lui non ha nessun problema a chiamarsi fuori. Intanto, in ospedale tutti continuano a prendersi cura di Tancredi e le sue condizioni iniziano lentamente a migliorare. Vittorio smette di pensare alla questione dell'incendio che passa temporaneamente in secondo piano, ma al risveglio del disanterasmo si potrebbe arrivare finalmente al punto di svolta. Venerdì, 24 novembre 2023. Clara viene a sapere che Alfredo ha un secondo lavoro. La cosa la lascia senza parole e decide di rivolgersi direttamente a Perico. Alfredo ha deciso di fare questo per via delle tante esigenze di Irene, che lui cerca di accontentare in tutte le maniere. Spinta da Roberto, Agata chiede a Ciro il suo benestare per quanto riguarda la scuola di disegno in cui vorrebbe entrare. Ciro crede che questi desideri di sua figlia siano irrealistici e che non sarà questo il suo lavoro, quindi non le concede la possibilità di andare a studiare disegno. Matteo e Marcello si alleano e riescono a fare in modo che non vinca Umberto per quanto riguarda il loro importante affare. Portelli decide di aprirsi con il fratellastro e gli confessa perché ha tutti questi debiti con gli strozzini. Vittorio, dopo l'incidente di Tancredi, gli dice che possono mettere tutto da parte e che lui non si metterà più in mezzo tra lui e la moglie. Tancredi però ha preso una decisione molto importante e fa una rivelazione inaspettata a Matilde. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi cosa succederà dopo l'incidente di Tancredi e ci saranno altri colpi di scena? A voi i commenti! Grazie a tutti!